Amore, ho incontrato Marco e Francesca con un amico loro troppo simpatico. Ho inviato pure lui domani sera a cena. Hai fatto benissimo, amore. L'unica cosa è che lui non è proprio come noi. In che senso? Amore, un immigrato. Ridere sull'immigrazione per lanciare un messaggio sociale importante e che soprattutto arrivi alla gente. Un messaggio di integrazione. Ridere sui luoghi comuni per esorcizzarli. È forse questo il modo migliore per far comprendere il messaggio Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana. Citazione di Albert Einstein presente nel video realizzato da Casa Surace. Il video sull'immigrazione della ormai celeberrima Casa Surace è uno spot all'accoglienza e vede i protagonisti duesalesi che attraverso battute e mimiche facciali hanno saputo ancora una volta fare centro. Andrea Di Maria che riesce a spaziare dal cinema al teatro passando per il web con uguale successo e il suo compagno di avventure Daniele Pugliese. L'ultimo lavoro del regista Simone Petrella, Le cose da non dire a un immigrato, riesce, attraverso il sorriso, a lanciare messaggi forti, sensibili, immediati ed efficaci e che dovrebbero essere presi ad esempio. Da citare anche la parte femminile del video che sta spopolando sul web, l'attrice napoletana Irene Grasso. Insomma, ancora una volta Casa Surace, ricordiamo che ne fa parte anche un altro salese, Luca Andresano, ottiene un grande risultato, riesce ad arrivare non solo a far ridere, ma soprattutto a far riflettere. Per fortuna anche voi fate parte di quella piccolissima minoranza di bianchi che è fatta così. Beh, speriamo.